Amici, nel travaso delle idee, oggi parliamo di Lea Longanesi. Lea Longanesi era un giornalista, un anticonformista, un avanguardista, un caricaturista, un aforista e un disegnatore e anche un grande editore. La Longanesi editore esiste ancora. Lui era famoso all'inizio perché scriveva le frasi per il Duce, tipo Mussolini ha sempre ragione, poi dopo divenne antifascista e tra l'altro Mussolini chiusa nel 1937 l'Omnibus, uno dei periodici insieme all'italiano e dopo anche i borghesi fatto da Longanesi perché si sentiva deriso. Infatti lui, essendo di bassa statura, si diceva fosse nato nel secolo X Nano e scriveva delle frasi bellissime tipo oggi mi sento un carciofino sott'odio, oppure la madre dei cretini è sempre incinta. Aggiungo io, la madre degli intelligenti è in menopausa. Qui ho un libro bellissimo suo, Parliamo dell'elefante, è una prima edizione insomma, però se ne viene un po' a pezzi, però insomma ci tengo tantissimo. Se lo trovate, Parliamo dell'elefante, sono dei frammenti di un diario dove parla anche dalle permanenze a Napoli negli anni 40 e 43, durante il rassellamento nazista, lui riporta nel libro una frase scritta su di un muro che recitava così, Dio non è venuto ed è tutto farnuto. Bellissima. Poi dava molta importanza alla fotografia come portatrice di contenuti, anticipò l'espresso e il mondo, questi periodici che poi vennero dopo di lui. Un'altra frase molto bella è Massaia, una vita spesa a fare la spesa. Io vi consiglio di comprare i libri su Leo Longanesi, che sono tantissimi, ma i libri di Leo Longanesi sono soldi in me spesi.